Come esperienze per gli studenti delle scuole medie di Gubbio con il progetto Comenius, ben conosciuto dai colleghi delle superiori. Per 5 giorni, 18 insegnanti e 24 alunni stranieri sono infatti ospiti dei giovani ogubini delle scuole medie Ottaviano Nelli e Mastro Giorgio, che hanno avviato il progetto biennale. Il primo incontro si è svolto solo tra insegnanti in Svezia ad ottobre, ed ora è la volta della visita a Gubbio. Dieci paesi partecipanti, tra questi Germania, Francia, Grecia, Polonia, Spagna, Ciecoslovacchia e Turchia. Lo scopo del progetto, che si chiama Peaceful Horizons, Come Over, Make a Project Attempt to Social Solidarity, vuole proprio essere un modo per raggiungere la solidarietà sociale, la conoscenza di altre culture, di altre tradizioni, di altre lingue, l'apprezzamento dell'altro, del diverso, per arrivare appunto a questa solidarietà, ad un'Europa, ad un mondo senza frontiere. E speriamo di lavorare bene. E sempre questa mattina i piccoli, questa volta nella scuola materna dell'edificio scolastico di Via Perugina, hanno addobbato un albero di Natale speciale, quello della Galleria della Coppa, invitati dalla sezione Soci Coppa Centro Italia di Gubbio, guidata da Elena Rosati. Dopo un canto di auguri, i piccoli accompagnati dalle maestre hanno ricevuto in dono il maniglione antipanico per la porta della loro mensa. I piccoli erano costretti infatti a mangiare con i cappotti, perché la porta non poteva essere chiusa per motivi di sicurezza. Da oggi i bambini potranno mangiare con più libertà.